Ogni domenica di questa quaresima 2019 ci viene proposto un nuovo personaggio che incontra Gesù. Prima Satana, poi la donna samaritana, Abramo e i farisei, il cieco nato, Lazzaro e la folla di Gerusalemme, infine Adamo ed Eva. Ogni domenica di quaresima un'icona ci accompagna in questo viaggio. Seguiamo Gesù dunque e i suoi sette incontri.